Bene, di nuovo buonasera amici telespettatori e anche radioascoltatori perché questa trasmissione Pianeta Oggi, il nostro settimanale va in onda anche su un circuito di emittenti radiofoniche terrestri. Ecco, ritroviamo come promesso l'altra volta Aristide Ballarin Poppi, editorialista di Radio Chioggia Sottomarina, ex Telemare 35, perché appunto stiamo parlando della storia delle radio televisioni, delle radio soprattutto locali, e delle televisioni locali radicate sul territorio che sanno darvi a voi un prodotto genuino, sano, che parlano della vostra terra, del vostro posto dove abitate. Dunque, eravamo arrivati l'altra volta sul fatto che molte radio sono state spente. La cosa a me mi dà molto fastidio perché, appunto come ho detto qui nel cappello introduttivo, cioè, questi emittenti locali rappresentano anche un'alternativa a quel network che è, diciamo, apparso negli anni Ottanta, no? E poi a più network praticamente. Quante radio sono sparite? Quante televisioni più o meno sono sparite? Parecchie, parecchie, parecchie. Perché ti faccio un esempio. Qui a Chioggia c'erano nove stazioni radio. Ah, solo a Chioggia qui? Figuriamoci. Solo qui a Chioggia. In giro per l'Italia. Nove stazioni radio. Sembravano troppe, ma a me dispiaceva. Diciamo che mi seccava quando apriva qualcun altro. Sì, beh, ovviamente, però poi... No, ovviamente, ti secca naturalmente, però poi, pensandoci bene, portava l'acqua al mio mulino. Perché in realtà aprivano, facevano musica a chi faceva un certo tipo, erano gli appassionati di musica, in realtà, che aprivano, che volevano fare la radio per fare musica. La mia idea, invece, era fare la radio vera e propria, con la musica, naturalmente, perché la musica è primaria. Però ci sono sempre quelle cose importanti del tessuto umano di una città. Dunque noi facevamo quelle cose lì, i famosi fili diretti con il pubblico, eccetera. E gli altri queste cose non le facevano. Pertanto io avevo uno spazio enorme. E quando c'era da raccogliere la pubblicità, noi raccoglievamo la pubblicità, le altre radio rimanevano in secca. E questo è il problema. E quando hanno cominciato a chiudere, mi dispiaceva, mi dispiaceva moltissimo. Perché non è che mi lasciavano il loro parco clienti. Lasciavano quell'amaro in bocca. Perché la gente dice, ah, stanno chiudendo le radio, falliscono le radio, chiudono. Mi spiego? C'era questo gusto amaro. Che invece c'è. Chi c'è rimane e chi fa radio come va fatta rimane ad esserci. Perché è giusto che ci sia. Però queste radio perché chiudevano? Qual era la causa? Chiudevano perché avevano spese. E avendo tante spese non riuscivano poi ad avere gli introiti pubblicitari per potersi sostenere. Figuriamoci dopo con le leggi che sono venute avanti. I network ovviamente di soldi ne hanno, non hanno avuto nessun problema. E le radio, lì è stata la botta finale. Quindi le radio locali, anche i tv locali, sono trovati veramente con l'acqua che non ha la gola di più. Stavolta l'acqua ha superato la gola. Beh, è sempre stato un problema. La pubblicità e il sostentamento pubblicitario. E noi cerchiamo anche di essere molto, mettiamo tanta pubblicità in realtà. Perché la pubblicità disturba per quanto riguarda il discorso, il discorso anche musicale. Quando metti troppa pubblicità la gente cambia stazione e ti vai a equiparare come tutte le altre radio. In realtà noi questo non lo vogliamo fare perché uno deve ascoltare sia la musica che la pubblicità. Altrimenti è il tempo perso. E questa è la logica. Però questa logica che noi abbiamo non è interpretata dai commercianti. Una volta c'erano i commercianti veri e propri. Adesso invece è assalto alla diligenza anche qui. Poi la chiusura di negozi, la crisi. Puoi immaginare cosa sta succedendo. Arriviamo ai giorni d'oggi. Arriviamo ad oggi che... Ma crisi ce ne sono sempre state. Non come questa, ma crisi ce ne sono sempre state. E noi come radio le abbiamo sempre superate. Dunque non c'è problema. Dunque, negli anni 90 è arrivato il satellite. Satellite. Ecco, Poppi come vede il satellite? Beh, noi l'abbiamo usato il satellite. Avevamo delle dirette interessanti anche con Roma, eccetera. Dunque il satellite ci ha servito parecchio. Come trasmissioni di servizio? Non per mandare su satellite Radio Chioggia oppure, non so, la telemare, una nuova telemare ad esempio? No, no, solo di servizio. In realtà di servizio ma andavano in diretta. Dunque avevamo le dirette, facevamo delle cose veramente strane e interessanti all'epoca. Poi è arrivato internet. Allora, internet ha cambiato un po' tutte le cose. Perché ti sto dicendo che internet adesso ti colleghi, puoi fare lo streaming, puoi fare quello che vuoi. Dunque, basta avere la famosa fibra ottica. Perché quello è il problema. Non c'è dappertutto. Non c'è, sulle grandi città c'è, non so, a Mestre c'è, a Venezia c'è, ma non so se sulle periferie arrivi la fibra ottica. Questo non lo so. Però Chioggia è ancora scoperta dalla fibra ottica. E dunque, però ci sono, puoi farlo lo stesso, insomma, non c'è problema. Ecco, quindi il satellite potrebbe essere stato un'alternativa allo scenario delle televisioni e anche radio del terrestre. Perché ci sono nuove emittenti, andavano su anche emittenti italiane. Poi, a parte il problema dei diritti, che certe trasmissioni non si possono mandare in onda perché c'è appunto il diritto. Ma quello è un altro discorso. A prescindere da tutto questo, volevo dire un'altra cosa. Con l'avvento del digitale terrestre, quindi per quanto riguarda il VHF e UHF, no? Ecco, è un po' come una Ferrari mandarla sulle strade urbane delle città. Dico io, sarebbe più importante, più, diciamo, sarebbe meglio mandarla nelle piste, neanche nell'autostrada. E allora il satellite potrebbe rappresentare la pista. Quindi, potevamo aver fatto il digitale terrestre sul satellite, che poi diventa digitale satellitare. E quindi avere degli spazi per le locali, degli spazi per le nazionali, degli spazi di frequenza per le estere, internazionali, intercontinentali e così via. Come vedi questo scenario qui? Beh, ci sono già le stazioni televisive nazionali che puoi vedere attraverso il satellite. Quello non c'è problema. Ma non conviene alle tv locali andare sul satellite? No, tu conosci i costi. Sì, appunto. Si poteva invece andare incontro un attimo e sistemare veramente la ricezione di tutte le televisioni? No, non è possibile. I costi sono esagerati. Stiamo parlando di due, trecento milioni l'anno. Sì, però anche... Due, trecento mila euro all'anno. Diventa mezzo miliardo all'anno per accedere. Le spese sono... Certo, io parlo un po' anche da profano, sì, me ne intendo un po', ma non come te, altrimenti non sarei qui. Noi l'abbiamo fatto, il satellite costava quelle cifre lì, radiofonico, non televisivo. Però le televisioni col satellite terrestre, nel passare, come dire, nell'emissione incontra diversi ostacoli. Le città, le fabbriche, i palazzi alti, appunto. Il mare, che c'è un problema anche di assorbimento, poi di che a volte si vede... Cioè, veramente a volte la gente impazzisce. Mi domando i pensionati come fanno perché veramente... Mentre col satellite bastava un unico telecomando e si poteva vedere bene tutto quanto. Non necessariamente, non è così, perché il problema è solamente tecnico da superarsi anche con il sistema digitale terrestre. Non è un problema, in realtà. Ci sono talmente tanti canali anche su digitale terrestre che metà basterebbero. La proprietà è sempre uno, insomma, da fin fine se andiamo a vedere. Ci sono anche 40 televisioni, ma sappiamo che è sempre di quella persona lì o di quell'altra persona lì. Non c'è il pluralismo. Che qualcuno, qualche ministro diceva, abbiamo il pluralismo adesso. Basta quelle brutte antenne delle parabole sopra il tetto. Ma sarà peggio vedere i vari tiranti, i ferracci che poi arrugginiscono. Cioè, non ho capito. La parabola si può mettere anche in giardino, nel sottotetto, per esempio. Quindi, vedi che non si dice bene le cose alla gente a mezzo televisivo. Sotto questo profilo potresti avere ragione. Però il costo è esagerato. Chi ti dà i soldi? Lo Stato? E come fai a guadagnare quei soldi per pagare i satelliti? Il digitale terrestre intanto consuma meno come spesa energetica. Dunque, è una cosa che avvantaggia poi le televisioni. E poi le svantaggia invece perché diventano 100, 200, 300, 500. E uno non sa che cavolo fare. Anche canali inutili, insomma. Sintonizza quei 10, 15 canali che interessano e finisce lì. E anche lì c'è la crisi. Perché se sintonizzano sempre quei 10, 12, 15 canali che interessano la gente, manca la pubblicità lì altri. E come sopravvivono? Chiudono. Questo è il pluralismo. Il pluralismo va fatto in maniera diversa. Cioè, questo è pluralismo. Anche la chiusura di una stazione televisiva è pluralismo. Se non ce la fa andare avanti. Cioè, qui stiamo parlando di capitali. C'è chi ha il capitale. C'è chi ha il capitale che riesce a fare. È ovvio che sia così. Poi chiude anche per altri motivi una televisione locale. E qui arriviamo all'ultimo punto che volevo trattare prima che mi scade il tempo. Allora, si parla, ho sentito dire, e non sono stato tanto felice quando ho sentito dire quanto ti sto per dire, no? Ho sentito parlare addirittura di rottamazioni alle televisioni locali. Perché, vedi, vanno a disturbare le frequenze di là dell'Adriatico, dove vanno a scontrarsi con le televisioni straniere. Ma quelle frequenze lì chi è che le ha date alla TV locale? Diciamo che c'erano anche qualche anno fa la rottamazione delle radio. E quindi disoccupazione? Tecnici, giornalisti, scenografi, eccetera? Ma c'è stato chi invece ha abbracciato questa cosa, perché una televisione ha una radio, chiudere una radio, eccetera, è sempre penoso per chi la chiude. Però lo Stato andava incontro con magari 70-80 mila euro, 100 mila euro. Anche di più, però poi è liquida, quindi l'editore, il titolare è liquida e i dipendenti. Però poi i dipendenti qui sono di là, finiscono dopo due o tre mesi. Cosa fanno? Oddio, finiscono. Se li deve c'entellinare e fa qualche altro lavoro, insomma, in qualche maniera. E qua il problema, che poi non si trova più niente, perché sta crisi... No, no, ma il problema è che chiudono perché avevano debiti per centinaia di migliaia di euro. Cioè, questo è il problema, non riuscivano a lavorare, non riuscivano a incassare, avevano solo spese. Ecco il problema. Vabbè, non si guadagna con la radio e televisione. Allora, per concludere, intanto io vorrei a tutte queste televisioni che sono in difficoltà, con le frequenze, eccetera, fargli da parte nostra i migliori, come dire, auguri. Voglio dire che tutto si risolva, vogliamo essere vicini a questi colleghi, assolutamente. Vorrei dire a loro di non demordere, ma di andare avanti, anche se è necessario condurre battaglie. Ma, per finire, ecco, Poppi, come vedi il futuro dei medi in Italia, su questo povero paese ormai? Non lo so, non lo so. Bella domanda. Mi fai una domanda che se io la sapessi avrei risolto tutti i problemi. In realtà non lo so. Grazie per averci seguito. Il Pianeta Oggi termina qui. Il prossimo appuntamento, tra una settimana come sempre, da Massimo Bonella, l'augurio di una buona serata e buon proseguimento con le nostre programmazioni. Buonasera. Grazie. 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 Grazie.